Ciao a tutti, oggi vediamo queste scatolette con base bianca o nera e la parte superiore trasparente. Sono utili per contenere oggetti come minerali, oggetti da collezione, modellini, macchine, vediamo come si aprono. Il coperchio è trasparente, molto luminoso, cristallino possiamo dire. Queste scatoline hanno delle dimensioni piuttosto ampie. Ecco, vediamo in particolare. Allora sono 8,4 cm per una base di 13,5 cm e un'altezza di 6,6 cm. Quindi sono rettangolari, piuttosto ampie. Ecco il 13,6, 13,5 circa. Parliamo delle dimensioni esterne. Ecco qui vediamo l'effetto che fa con un minerale. Il minerale viene protetto dalla polvere e da eventuali urti. Così potrebbe essere per il modellino di un'auto piuttosto che un oggetto pregiato da mettere in esposizione. La base bianca o nera può essere utile a seconda dei colori dell'oggetto che si va a mettere in esposizione. Queste scatoline le troverete sul nostro sito elettronicadidattica.com al codice A0179. Ne abbiamo anche di altre dimensioni e di altre forme. Vi aspettiamo per i prossimi video. Iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. E per ora, ciao a tutti, a presto!